Purtroppo ragazzi questo sarà l'ultimo o forse il penultimo video della serie di Valorant lo dico a malincuore con molto dispiacere perché mi piaceva davvero tanto giocarci in solo e anche con gli amici e come al solito quando mi piace qualcosa cerco di condividerla e portarla qua sul canale ma gli episodi precedenti oltre a non essere stati graditi dalla maggior parte delle persone li hanno visti hanno ricevuto nei commenti anche tante offese sia a me sia al gioco credo messaggi inutili e indesiderati Pertanto mi dispiace se qualcuno di voi diciamo apprezzava il gioco lo dovrà seguire da qualcun altro Detto questo adesso vi presenterò Cypher il personaggio che andremo a utilizzare quest'oggi le sue abilità dopodiché entreremo in partita Bene ragazzi questo è mio bentornato in questo nuovo video della serie di Valorant lui è il personaggio che abbiamo utilizzato nel video di oggi il nostro caro Cypher come tutti gli altri ha 4 abilità Andiamo subito in una privata in un poligono una prova di tiro insomma quello che è vi faccio vedere le sue abilità Allora la X la nostra prima abilità in questo caso come vedete sono due connettori che si legano da parte a parte di un muro quindi in questo caso qui oppure qua sulla porta Sono invisibili agli occhi dell'avversario fino a che non si avvicinano veramente tanto nel momento in cui lo colpiscono vengono rilevati per una frazione di secondo E hanno davvero poco tempo a disposizione per colpire il dispositivo e distruggerlo altrimenti vengono storditi per qualche secondo Si possono raccogliere quindi spostare poi a giro da altre parti quando vi rendete conto che una zona non ha più bisogno di essere protetta Seconda abilità Cypher lancia questa piccola sonda che se premi E puoi attivarla e crea una gabbia che rende la visibilità dei nemici veramente ridotta anzi dentro non si vuole praticamente niente Se non erro quando i nemici attraversano questa barriera voi li rilevate quindi davvero molto buona La F terza abilità davvero molto importante piazza una telecamera che potete attivare in qualsiasi momento per controllare una zona Quindi magari voi andate sull'obiettivo di B piazzate la telecamera dopo vi spostate da un'altra parte la attivate e potete controllare se i nemici sono lì Nel caso in cui ci fosse un nemico voi potete sparargli un dardo addosso che lui si deve togliere altrimenti lo rivelerete in continuazione Ultima abilità però non posso mostrarvela che è la C in questo caso mi dice dammi un cadavere Perché quando uccidete un nemico e lui cade a terra col suo cadavere voi attivate la ultimate su quel cadavere Ci tira il cappellino sopra e rileva la posizione di tutti i nemici ancora in vita all'interno della partita Non perdiamo altro tempo andiamo immediatamente a giocare Vi aggressivi vai ci sto Ah un posto interessante Pusciano mid Mi hanno tirato una granata nei denti sto messo male Ma che cos'è sto ciò Lei qua Mid 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 Attenzione Ha preso la mia trappola Preso Perché questi pushano? Pazzini Ultimo giocatore rimasto Mettete la telecamera all'angolo E vedi la bomba e te ne vai Sotterrato Oh no 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 Quando una persona è scarsa Il tizio della nostra squadra ti ha detto Ubriston what are you doing? Cioè calmati almeno Torna coi piedi per terra Omen Pusciamolo in due Vado a sinistra allora Di qua in vai Jack però pushamolo vuol dire che devi correre Cioè non è che devi andare senza fare i passi Ultimo giocatore L'ho aiutato Gli ho fatto 30 Jack pushamolo non vuol dire andare slow Ho capito bro ma non lo vedevo Non lo vedevo Eh perché sei andato piano sei rimasto dentro la smoke C'è uno a sinistra Destra Nemico eliminato Ultimo giocatore rimasto Ha saltato Sta sul destra E' morto omen l'altro dietro è ancora vivo L'altro c'era qua sotto a sinistra Ha preso un'arma Qua sotto a sinistra Che Ho aiutato i raids ma è preso con la ulti Ho piazzato la spike Ecco l'è da me Da me da me Da me da me Da mia destra Oh mi si è messo davanti per coprirmi la visuale Incredibile So esattamente dove sia Ah è libera Ecco l'hanno sgamato Tp eh 30 secondi rimasti Manca un solo nei 30 secondi Ti devi muovere ora 10 secondi La pistola Sì Oh no 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 Devi ucciderlo Jack Che fai? Devi ucciderlo Vuoi piazzare su A per favore Sono su A guard Vieni con me Ce l'ha dietro di te eh Allora spottati Spottati Peso l'ultimo eventi Letro dietro Lo ha hitato 70 Piazza Sta mid Arriva da mid C'è uno C'è uno È dal nostro spawn Omen è dal nostro spawn Operator Buono Rage omen Sono long B Ah no Buono Il mio compagno è morto qua Presa Manca un solo nemico È qua È dentro B Dentro B a destra Ho bisogno di copertura Preso me Me doveva prendere C'è l'operator ragazzi Raccattatelo 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 Uno qua Il nostro amichetto Colpo tar Reza ha tirato l'ultimo Peggio della sua vita Ruoto A eh Ruoto A Arrivo da bagni Da secret Sicuramente a base L'ora arriveranno Uno ha preso la trappola mid L'hai visto? Eh no Sto guardando di qua Sto coprendo base l'ora Unciso Bello E siamo in attacco È gongolo 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 Jack che cosa fai con quella mitraglietta? Chiedimi un'arma Dai veloce No no Veloce Non è Andare su Presa raids Vado su Vai E li ulto Sappiamo dove sono Tra due secondi Eccoli No dai Ma entrate Siamo dentro È coperto Cazzo mamma Mi hanno shottato So esattamente dove siete Ecco Io ho usato due ultime Dei fancora Pure Operatore maiali Prendono loro Prendono loro È possibile avere Un bulldog Muovo il bulldog Torni sui tuoi passi Sigret Sigret Subito a sinistra Tano Questo va Va Madonna Che combattimento abbiamo fatto Oh raga Uno da dietro Vi ruota Planta Planta Tano No sta fermo Vai ora puoi plantare No è spawn nostro Entrambi spawn nostro Uno è arrivato a bagni Cypher è arrivato a bagni È una sola Eccolo Il Wander fa schifo E lo raccoglie Sei un buffone Guarda che me lo leva Sei un buffone L'hai tolto Ti ho visto Stavo aspettando te Sei un buffone Mamma mia Dove è arrivato a bagni 3B long Raga Planta Planta Guys B is free B is free Mamma mia Ma chi sono Dai 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 guys Coprimi Coprimi che vado a piazzare la telecamera Arriva il robottino Non ci vedo Non ho più cariche Non ho distrutta eh Penso di P da B Buono Brava Ma L'ultima è pronta Bello Dove si nascondono tutti Qua No che sfiga Che sfiga È lì eh Secret Che salamello Cambia posizione Cipher riesce a vedere il mio volto Ti fa paura Ti cagli addosso Sei zitto Allora questa la mettiamo qui Sì Dovrebbe andare E questa la mettiamo qui Questo va qui Questo va qui Questo va lì Vado su B Telecamerina Su B Non ci sta nessuno Nessuno B eh 2 mid L'ho massacrati Ditemi quando prendere il teleco Io ho fatto Arrivato a 10 Io ho fatto 102 Vai 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 ora Vai ora Vai ora Mi sto pushando Secret Ci sono Bomba 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 Qua Bagnò Bagnò Sinistra È fatto Mid Bomba Lo senti Passi Eccolo là È mid In base No non è sbagliato Bene Loro si fanno il secondo round Senza armi Sarà divertente Questa la cazzo qua Questa la metto là Questa la cazzo qui Io sono tipo il professore So tutto di tutti Mi long Oh che è qui Panico lì Uno Un rilevato Window Sono tutti qua E' stato tantissimo Il loro cypher Pannale Io sono un co***e Che ricarico Ci vedo Ha preso la bomba Vuotano Secondo me ruotano a Oh Uno mi long Sono tutti Ragazzi Stanno andando su Eh hanno preso il tp Stanno plantando Vai tu vai secret Io guardo qua Guardo con te Aspetta c'ha Non so che Va a sinistra Sinistra Stai Secret uno Uno bagno Preso Let's go man Let's go No Why you're not happy Ho detto perché stai urlando Sì sì Ho detto perché urli Sorry for screaming I was happy Se faccio 30 kg Offro il sushi eh Non accadrà mai I long Nessuno La nostra raise Sta pushando Uno push a mid L'ho preso Vengo dai bagni Vengo dai No Tp Ho ancora il tocco Ho preso cypher E lo andiamo a stanare Troppo terni Ti faccio i gol Non riesco Ti faccio fare i miei La parte opposta della mappa Devo andare a Perché stu'ha si fanno un botto di kill Esatto Vengono tutti molto Spesso a middle Qualcuno qua si è arrabbiato duro Qui sono Qui sono Gli vengo da dietro raga Però cerchiamo di piccare insieme Ancora lì eh Ha pushato bancho Che fa Bellissimo Piccione Destra 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 Io dai diri in inglese Questo va lì Questo va qui Brinstone Gobì Hai sentito la call del nostro amico? Lui che comanda qua Due bagno Tre bagno Due bagno Ho dato Ho dato a mid Questo Questo è l'ultimo Non è l'ultimo Da perdere la testa Preparatevi All'opocalisse What? Raga aiuto Ah L'ultimo È brutto Eh c'è l'altro Ok vabbè Boom Ma questo pompa Sembra forte comunque Sta pazzo Faccio 30 kg Sono rimasto a 21 Questo mi ha rotto Toilet Gli vado da dietro Dai Ma rischio Sto per morire probabilmente Mi tireranno tutto quello che hanno qua dentro 3-3-2-1 picco I'm a wash My god He's a wash Aia Ultimo Stattore è rimasto Senza Colpo Tappo Eeeh Tutti miei soldini da parte Perduti Basta Non vi lascio più da soli Su Seggio non ha messo un muro Eeeh Si è diventata Ave quella skill Secondo me Bungi Bungi Guardo io bagno La bomba è di là Eh Sassi quante volte ce l'ha sta ultima È nel fumo Manca un solo nemico È one hit È qua nel fumo one hit Ah l'avete già ucciso Corino Si vola Ehi Bung bung ciao ciao Bung bung ciao ciao Chi sei scusa Palermo Hai colto la citazione Bravissimo Era che fosse difficilissimo Vabbè Cacare Eccolo Passo esattamente dove siete E loro sai per che parla? Buono Mi pushano No raga Ha coperto Non mi possono pushare Sono le mie trappole Su B stanno piazzando Sinistra A destra Ovviamente Raga stiamo trovando in difesa Cioè vi devo solo questo Da quando sono venuto su A E me ne sono andato a B Basta Non riesco a killare Cioè ecco vediamo Se è l'unione negativa Oh ma non c'è nessuno mid a coprire qua Non c'è nessuno window raga Sono tutti su B eh Tutti su B Girate iniziate a girare Aiuto raga Sto arrivando Questa si sta facendo tutte Valla mai Manca un solo nemico Siamo intervenuti La SWAT Siamo qui per liberare Eeeh Io ho fatto il mio Questo va qui Questo va lì Quello glielo piazzo laggiù Siamo tutti felici Eeeh Due bagni Mi hanno ucciso di granata Eh vabbè Io ho visto la madonna E tutti i santi Metto la telecamera Non vedo nessuno Ma faccio Ne passano due Ce l'ha Ce l'ha E' suo E' suo La cuccio Io sparando da blindato Ho fatto 5 danni La vera domanda è Come ho fatto a fare 5 danni Con un vandal Scusatemi Io ho sparato in un In un'unghia Può essere stata una granata Non ho le granate Mi spiace Uno cypher dall'inizio della partita Per giunta Vengo su ai ragazzi E vado window Appena arrivo Vorrei tirare la mia ultima Ha tirato la ultima Impossibile ragazzi Mi si è teleportato davanti E non è morto Gli stavo sparando in testa Te Jack perché guarda in muro? Picca senza guardare Sto guardando in muro Mi ha laggiato ragazzi Ah 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 Non la sentivo da Call of Duty questo Da Modern Warfare 2 Non lo fare Non lo fare Pazzo Andiamo Jack Vogliamo pusciarli duro Vai ci sto Vado Toilet 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 Ma tu proprio così Ok my boy Stanno qua Mi aspettano Fammi arrivare Sono lontano ancora Oh Madonna Mi è preso un infarto Questa è arrivata da Shando Cioè sembrava veramente Apex Legend Preparatevi all'Apocalisse Jack è sopravvissuto all'Apocalisse No vincete l'ultimo round senza di me Non nemmeno detto Siamo 3 contro 2 Manca un solo nemico E mid Attenzione Cari amici Questo video di oggi Termina qua Questo personaggio A me piace veramente Tanto Per coloro che hanno avuto La possibilità di provare il gioco Fatemi sapere cosa ne pensate Vi saluto Vi mando un abbraccio Ci vediamo nei prossimi Nel prossimo video Qua sempre è tutto Buone E' un peccato Che non possiate giocarci Perché sono sicuro Che piacerebbe anche a voi